Il progetto Explorare vuole promuovere la best practice da utilizzare durante l'iter di approvazione dei farmaci per le malattie rare ed orfane, per rendere il percorso valutativo, che non è sempre facile, rigoroso ed efficiente. In occasione dell'evento conclusivo di Explorare parliamo con il professore Andrea Marcellusi, presidente eletto eSport Italy Rom Chapter, sul cui impulso e proposta nasce il progetto in collaborazione con MaProvider, oggi Farmalex Italy. Quali sono le principali difficoltà ed ostacoli oggi nella valutazione e nel rimborso dei farmaci per malattie rare e orfane? Nella parte di negoziazione di prezzo e rimborso dei farmaci l'analisi economica praticamente rispecchia le stesse difficoltà che ci sono nella sezione tecnico-scientifica, ossia la difficoltà di avere nelle malattie rare un braccio di confronto in maniera tale da poter simulare nell'analisi di valutazione economica quelli che sono i costi sostenuti nel trattamento attivo rispetto a quella che è la standard of care. Oggi purtroppo la difficoltà nell'arruolamento dei pazienti all'interno dei trial di malattie rare ci dà una difficoltà anche nella simulazione dei processi di efficacia e di malattia anche in ambito economico e di gestione della malattia all'interno del sistema sanitario nazionale. Queste sono sicuramente le principali difficoltà che abbiamo ad oggi, oltre a ovviamente difficoltà in ambito di discussione con gli enti regolatori e di trasparenza delle valutazioni. Cosa suggerirebbe come Ispor Italy Rom Chapter per risolvere queste difficoltà? L'Ispor Italy Rom Chapter ha analizzato approfonditamente le tecniche che ad oggi possono far superare questi processi e queste difficoltà poi sostanzialmente. Quello che riusciamo a fare con tecniche statistiche adeguate è proprio quello di simulare il braccio attivo all'interno di un trattamento, di un trial monobraccio, con quella che è la storia naturale di malattia proveniente dai registri o dai dati real world. Questo tipo di analisi, se viene validata all'interno dell'ambito tecnico-scientifico, sicuramente è un ottimo punto di partenza anche per le simulazioni dei modelli statistici per le valutazioni economiche. In maniera tale da poter in questo modo identificare i costi incrementali generati dalla nuova tecnologia e dal nuovo farmaco e paragonarli all'efficacia incrementale che questo nuovo farmaco è in grado di fornire. Ovviamente questa efficacia viene tradotta dall'interno delle valutazioni economiche in termini di quality adjusted life figures, cioè anni di vita aggiustati per la qualità. Come commenta il lavoro del team del progetto Esplorare? Il team del progetto Esplorare è stato un team multidisciplinare e molto attivo, soprattutto nel work stream che ho coordinato, devo dire che ho visto proprio proattività da parte di tutti gli stakeholder coinvolti nel cercare di trovare soluzioni, non fermarsi solo alla critica nei confronti del processo regolatorio, ma provare a individuare delle soluzioni. Le soluzioni che sono state individuate sono sostanzialmente quella di una adeguata comunicazione con il regolatore, tecniche che hanno una metodologia robusta e che possano supportare le decisioni e la fase di assessment all'interno di un processo regolatorio e ovviamente anche tutta quella parte di approfondimento sia nei confronti dell'agenzia sia nei confronti delle tecniche dei trial clinici per queste malattie rare.